Per la prima partita tra le Muramiche anche il Givi Borgo aveva un obiettivo particolare, non solo vincere ma anche convincere, per cancellare la brutta prestazione dell'esordio in campionato nazionale di Lettanti sul campo dell'Ostiamare dove finì addirittura 4-0. Al Carraia parte bene il Givi che al 36esimo minuto di gara passa in vantaggio con Gori. Gli ospiti provano una timida reazione ma è ancora il Givi Borgo a riversarsi in avanti e a trovare così il raddoppio con Nottoli proprio quando sta per scoccare il 43esimo minuto di gara. Prima che il signor Barbetti fischi per mandare tutti negli spogliatoi non si segnalano altre azioni pericolose. Al terzo della ripresa il Sandonato ci prova, Russo commette fallo, concede punizione del limite, del piazzato si incarica Dora Tiotto che però calcia sulla barriera. Passano pochi istanti e al settimo tocca Bonifacio salvare la propria porta sulla conclusione di Silla. Diciannovesimo ancora gli ospiti in avanti nel tentativo di riaprire la gara ma il tiro di Senesi passa alto. L'ultimo sussulto alla mezz'ora. A provarci è il neo entrato Manfredi ma anche il classe 2002 non è preciso e da buona posizione spara alto sopra la traversa. Non succede più nulla. Il Ghibiborgo è in camera ai primi tre punti del campionato lasciando quota zero dove invece il Sandonato Tavarnelle rimane in coabitazione con il Trestine.